Città di Migiano, con il patrocinio della Regione Puglia e della Provincia di Lecce, in collaborazione con Cuore Espresso Caffè Biologico, è felice di invitarti a Expo Turismo Arte Terra e Natura del Salento. 19, 20 e 21 agosto ti aspettiamo al quartiere del gusto a Migiano, tra arte e artigianato locale, street food, cantine vinicole locali, birre artigianali, dolci tipici e tanta musica! Venerdì 19 agosto con gli avvocati divorzisti, sabato 20 agosto con Antonio Castrignanò e in Taranta Sound, domenica 21 agosto con il Mondo Radio Dance Tour. Voglia di sapori autentici ed eccellenze locali? Migiano ti aspetta!